ok adesso allora io sono già nudo sono tornato mi sono rivestito però se facciamo una cosa dobbiamo farla assieme deve essere un rapporto consensibile durante quello che parte ci state? si! ci state? are you ready for the blues? si! ma scusate le tecniche sono sono buone soprattutto are you ready for the blues? ok allora io adesso a pochi fortunati distribuiamo le percussioni che ho avanti quegli altri si devono insegnare tipo a prendere molto in testa quello che hanno pianto perchè in tanti anni me li hanno guardato tutti infatti vieni qua dammi la mano dai ti distribuisci le percussioni ai gentili domani con le gentili donne vado qua adesso io voglio sentirmi fa un po' di confusione forse ci deve essere un pochettino da camminare che è la percussione più difficile della scuola questo anche io penso che è nell'ultimo cd che è disponibile a legare questo pezzo ho esaltato uno dei miei sogni che non era che non era si può dare certo ma è tanto di avermi che abbiamo visto un piccolo che è l'unico cd ok adesso maxi sono al piano perchè poi mi dicono che gli abbiamo coperti io voglio sentire un po' di confusione con qualsiasi cosa dai l'unico fatti sentire con le mani con i piedi con le percussioni ora è sabato 6 stiamo sonando blues che bello è ora ora guys con i piedi a che bello a 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.